buona e santa serata a tutti io sono a casa fuori fa abbastanza freddo come penso in tutta italia e non solo vi raggiungo con questo piccolissimo video come ogni sera innanzitutto per augurarvi una notte serena e un riposo tranquillo nella messa di questa seconda domenica del tempo ordinario abbiamo così pregato nel salmo responsoriale il salmo 39 che dice ho sperato ho sperato nel signore ed egli su di me si è chinato ha dato ascolto al mio grido mi ha messo sulla bocca un canto nuovo una lode al nostro dio ho sperato domanda e voi sperate nel signore ma questa speranza com'è è forte è salda è duratura e per alimentare questa speranza cosa fate la preghiera c'è ogni giorno il cammino nella parola del signore c'è ogni giorno accogliete la benedizione il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo buonanotte a tutti e a domani per un nuovo giorno ed una nuova settimana ricordo già fin da questa sera che domani è lunedì e alle 17 abbiamo la catechesi in diretta su youtube ciao a tutti